Salve a tutti popolo YouTube, noi siamo Schiettatore994 e... Basari Rulets E facciamo parte della Gamers The Gang e oggi faremo un video per Cetus Network E speriamo come vi piaccia registreremo un gameplay casuale di LEGO Batman 2 DC Heroes Eccoci alla missione Scegliamo i personaggi Batman Robin Andiamo Tu riprendi Sei stronzo Scusa, succede, lo so Ora Faremo questa missione perché ci pare abbastanza corta No, anche perché è piuttosto caruccia questa Sai, dobbiamo inseguire un autotreno impazzito Tra l'altro è carico di Kriptonite Qualcosa E noi useremo Superman in questo livello e non ce ne fregherà niente Eh vabbò Vabbò, è questa Ti verrà un ulcera magari Vabbò, male che va Un tumore bruttissimo, un mezzo bozzo, diventa tipo un gobodino 3 danni Ok, naturalmente dato che il gioco è stato già completato Sì, abbiamo parecchi bonus attivi Per esempio, vedete il moltiplicatore per 384 Ben presto prenderemo anche quello per 10 quindi Quindi sarà veramente qualcosa di apocalittico Oh, ricordiamoci i mini kit Mi sa che ne abbiamo appena mancato uno No, ho preso Ti ha preso Che chiuso Ora, attento a qua, muore Questo qua che ci vuole trollare Sì, è vero Questo sulla destra Questo ci vuole trollare, lo so, eccolo Ah, fatto No, ne abbiamo mancato uno No No No, ci arriviamo, no Non d'accordo Questo coso si muove troppo Eh Tendiamo a fare Eccolo 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 C'è, c'è, c'è Ecco, c'è Però questo c'è l'altro là Fatto Schiandellato A posto Ora ci concentriamo solo sul Sull'autocarro Autotreno, scusate Esatto Comunque abbiamo scelto di fare il gameplay di questo gioco perché E' bello Abbastanza nuove Dopo, vabbè, fa parte della saga Lego che fanno sempre i giochi Bellissimi Solo che in questo gioco, come novità, parlano i personaggi Sono stato traumatizzato Mi sono rovinato proprio Non ci ho dormito la notte Ma, vabbè Parlano Parlano Non possiamo fare nulla Abbiamo pochi soldi, abbiamo fatto Un po' dai Che è successo? Se sentite scricchiolare il joystick che sto usando io Che ho pagato 5 euro la pire dell'elettronica Eh, grande acquisto Grande Forse un buonissimi dollar risolverebbe la situazione Eccolo Eccoci Questa schermata nera è dovuta al fatto che ci sarebbe dovuto essere un filmato ma essendo il gioco libero Siccome non è la storia purtroppo non abbiamo il filmato Ok, veniviamo subito questi robot No, non prendo il cazzo Non abbiamo le dia posti Eh, spacca tutto Come on, motherfucker Scusa Non voglio usare quel costume di merda Vabbò Però era così figo Guarda che belle scarpette che ha quel costume Mi fa cacà Vabbò Lo riscopio il cyborg Sì, ok Ci ho fatto Scusa Dovresti far uscire quel affatto Yeah Che figo ne vorrei uno in camera di sti cosi Ma te l'immagine è cazzificata se al posto del lampadario c'è quella cosa che ti apre l'affare e fa la luce No Eh, va poi il nostro schiattatore è un po' pazzo Come succede, ragazzi? A una certa età Mi prendo superman Alla veneranda età di 17 anni si diventa pazzi Ah, mi piace Eccolo Super Sonic è arrivato questo minikit Uno dei minikit più veloci della storia Eccolo Preso Anche tu hai l'occhietto laser Se la smetti di muoverti per piacere Grazie Ok, preso Ok Vai sopra e buttami la scala che io devo fare Batman Yeah Io faccio superman Mi fai superman, fa quello che ti pare Sì Perché tutto ciò? Cosa? Cosa stai facendo? No niente, volevo entrare sotto Mi getti la scala? Un attimo, ok Sennò mi tocca suicidarlo Ti prego, non lo fare Tò, pietro Grazie Diventa uomo magnetico bionico Io intanto prendo la Ah, ci ingegnavano dopo qui Ah, vado a facca Oh mio Dio Oh mio Dio Sono, sono, sono qui Cosa stai facendo? Sono andato a prendere l'ultimo minuto Ah Sì, mi fa Dove è l'uomo magnetico? Non passa attraverso le piante Sì, serve Scusa Vai Scusami Non è Ecco Ok Sono riapparuto Mi pecchiare, perché mi uccidi? Ecco, mi hai ucciso Alla fine l'hai dovuto fare Prendo io Batman Vabbè, diverti Sì Stonk Che figo Il costume e sensore Lo vorrei pure Guarda come sei scheletrico Scusa, ma tu non eri cyborg? Sì Perché sei scheletrico? Ma cyborg Cyborg sono a parte umani Parte mattina Capito Allora Scusa, ma sei già sopra? Sì, ho già fatto quella Dovevi fare tu Perché è sceso? Ah, poi gli andava, poverino Dai Il mio kit qua sotto? Niente Dovevo scendere Dopo, ma scendiamo Va a rompere subito quei cosi schifi Quali cosi schifi? Qua sti... Ah, i cyborg Qua Non sono C-17-7-C-18 Non sono Sono robot Prendo io Lex Luthor Per ancora Oh, ma quello lì Se ne va su un palloncino Anch'io lo voglio Il palloncino Ma lì c'è un per 20.000 Ma no Soldi Soldi, soldi, soldi Tanti soldi Ti prego Fermati Arrestatela Yeah Come on Vado a facca Qua che cosa ci vorrebbe? Il ragazzo magnetico Il ragazzo schifo Vado a diventare magnetico con Robin, dai Ti prego, non lo fare Vabbò, prenditi cyborg, ho capito Ma ora è il tuo nuovo migliore amico, sto cyborg Oh, fa due cosi Due col... No, tre cosi insieme È figo Non mi sa che c'era la bomba Ah no No, ma devo riprendere... Un superman Ah già Vabbè, prendiamo un superman con la lista raggi Vai Ho sbagliato Ho sbagliato, sì lo so Ho sbagliato Sbagliato Eccolo 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 Vai Oh yes Il nostro schiatta L'aveva usata la tastiera La situazione è piuttosto Che figo lo voglio pure io Pazzo Oh cazzo, non si abbattano No, è vero Non crepano Per me però sono cassini amauri per tutti Sono morto Ah no, sono vivo Sono morto Ah, questo è il costume per te Bat costume Here I am Fuck you Eh? Eh? Cosa? Allora Eh, ragazzo schifo Magneto Eh C'è qualcosa che non è andato per il perdito C'è qualcosa che non cosa Bravo Aspetta ora vado a... Ho morto di nuovo Vado là col mio raggio sonico Oh yes Io prendo Joker Ma Joker non è mulerabbra al pulmi? Joker non è un parapugno E quindi mi serve Chi mi serve? Alla, il ragazzo brutto Ragazzo schifo Io prendo questo schifo Basta per fare così Sai mi serve soltanto una domanda Come lo spacchiamo questo vetro? Mi sa di che si spacca forte sto vetro Mi sa di che serve Black Canarian e Manbad Bane No non credo Non ce l'ho A parte quando riprendi i costumi di Batman Black Canarian e Manbad possono stato strillare senza costumare Dici? No un po' Però non è oggetto le colture di vetro luccicante Aspetta io Mi sono stordendo a me Ma sta forzando da Come faccio Aspetta c'è un'itera Assolutamente da sotto Tipo dobbiamo Sì da sotto Mentre c'è sotto Qua sotto Che cosa? Devo sfracellare la testa? No da sotto Sì perché qua sotto ci sta la stanza quella la grossa Sicuro? Sì sì Tì dignità Oh sì Oh sì Sì c'è Oh yes Cos'ha fatto? Ho preso un minikit Qui c'è da montare qualcosa Monteggialo Cosa? Cos'era una bomba? sono andato a finire in mezzo alle ruote di quell'affare ah ecco cos'era scusa 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 effetti sonori all'avanguardia sei pazzo effetti sonori io ero andato a finire in mezzo alle ruote di questo affare riprendo un secondo come hai fatto entrare là per un secondo solo batte ci chillerò no mi devo andare a riprendere il costume sonico vai corre ammazza qualcuno non mi afflattendo no sono pacifico non ho fatto parkour per arrivare qua sembravo Leito di Bollier 13 ci sembravi? è un film bellissimo che ti farò vedere prossimamente lo vuoi che ti hai fatto scendere là sotto ah no qua ci servi tu convinto che però non c'è lì il costume adesso fa che serve appunto vedi che serve di tu ti prego non cambiare costume no no non cambiare personaggio non lo faccio tranquillo che figo questo coso dobbiamo romperlo sii yeeeh ma che figo sa che c'erano dei cosi che indica di là aiuto ho sbagliato ho fatto una cosa guardami come sono figo perché non riesco a saltare salta eccolo no non salta cioè là sotto stava si puoi diventare c'è anche tu tranquillamente senza usare ma bu abbiamo fatto ormai guardalo guardalo ha preso 10 su 10 amici 10 su 10 io figo si adesso per piacere mi dia una mano stavo cercando ma sto coso si arrambica si arrambica sopra gli muri oh yes mi dia il tempo signore ma per prego io ho finito possiamo andiamo missione terminata mission complete vediamo che cosa esce da si un po' di soldini pochini vediamo un po' che cosa ci esce da questo mini kit non è una cosa di joker ci esce il carro dove siamo stati fino ad ora sopra mini carretto molto mini po' i soldi proprio pressione ormai auto articolato ad ex copp mini kit mini kit mini kit mini rock bene ok ritorniamo a gotham city che ci diamo saluti là no 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 basta scusa che bello questo 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 io sono batman ok io sono la robin quindi ci salutiamo tutti quanti ciao ciao a tutti amici ciao 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 ciao